Sono infatti molto contento di tornare a predicare qui, di ritrovarmi a casa, di festeggiare il settimo compleanno di opera. Torno con tanta gratitudine, Dio è stato molto buono nel nostro percorso fin qui, come ho detto, Dio è stato buono, è stato generoso, è stato fedele negli ultimi sette anni. Torno, io e Sara torniamo con tanta gratitudine anche per le settimane che lei ed io abbiamo trascorso in America, vi racconto qualche storia, la prima è successa appena siamo arrivati in America, nel giorno di Natale, noi siamo arrivati lì il 24 sera, il 25 siamo usciti a pranzo, abbiamo cercato un ristorante ma era chiuso, un secondo ristorante ma era pure chiuso, era il 25 dicembre, non sapevamo cosa fare finché ho trovato un uomo che mi ha detto andate al centro commerciale, c'è cibo gratis e regali per i bambini, ho detto ok, andiamo a vedere, siamo andati al centro commerciale, era tutto chiuso, i negozi, ma ne uscivano famiglie contente, con regali in mano, quando siamo arrivati all'area ristorazione, dei volontari ci hanno detto, buon Natale, venite a mangiare con noi, ci hanno fatto sedere ad un tavolo apparecchiato con una tovaglia bianca, piatti di porcellana e tazze, subito sono arrivati altri volontari, che hanno detto, graditi del tacchino, la lasagna, le verdure, le patate, del pane, era un cenone, molto abbondante, mentre mangiavamo è arrivato un illusionista che ha detto, graditi dai trucchi di magia, e i bambini, eravamo spiazzati, non avevo mai visto qualcosa del genere, un cenone di Natale, completamente gratis, aperto a tutti, c'erano tante famiglie bisognose a mangiare, tante persone a servire come volontari, infatti c'erano più volontari di persone bisognose, quindi ci siamo seduti tutti insieme, mangiavamo tutti insieme. Ecco delle foto, ho fatto delle foto, questo è l'illusionista presso un altro tavolo, guarda gli occhi di quella bambina, il regalo che aveva ricevuto, poi la tavolata dei dolci, la prossima, ecco qui, tanti dolci, volontari poi a servire, poi ecco qui a servire i tavoli, e alla fine c'era un ragazzo vissuto da gnomo a servire del tè caldo a delle bambine. Ho trovato questa iniziativa commovente, mi ha commosso, da una parte ci siamo sentiti male, perché non siamo proprio bisognosi, potevamo permetterci di pagare a un ristorante, ma dall'altra parte non avevamo dove mangiare, i ristoranti erano chiusi, i supermercati erano chiusi quel giorno, eravamo un po' come Giuseppe e Maria che arrivano a Betleme e non trovano stanze in alberghi, no? Eravamo bisognosi in quel senso. Ci siamo sentiti un po' male, ma la grazia, così, devi abbassarti per riuscire a riceverla. Se sei orgoglioso, non l'accetti, rimani affamato, solo che è disposto a ricevere grazia, è capace poi di offrire grazia ad altri. È stato un Natale molto bello, mi ha fatto pensare appunto alla grazia di Dio, vedere la gioia di quei volontari, la gioia di quelle famiglie, bianchi, neri, ispanici, tutti insieme festeggiando il Natale con un grande gesto di grazia comunitaria, mi ha commosso. È stato più bello in verità di essere andati ad un ristorante e di aver pagato il conto con orgoglio, no? Siamo abituati a servire, a dare, ad accogliere, ma Dio ha voluto che concludessimo l'anno ricevendo, essendo serviti, mangiando in modo abbondante e non pagando niente, prima di poi trasmettere qualcosa adatti. Quindi da lì, Sara e Dio, siamo andati a quel convegno ad Urbana, un convegno per studenti che vi abbiamo condiviso a dicembre. Anche questa esperienza mi ha riempito di gratitudine, mi ha fatto pensare anche questo, alla grazia di Dio. Ci siamo andati a quel convegno a dodici anni fa, quando eravamo studenti, e all'epoca avevo un'idea in mente, un'idea un po' pazza che mi sembrava impossibile, che era venire a fondare una chiesa a Roma, nell'epoca. Sognavo questo, ma allo stesso tempo dicevo a me stesso, che dici, mi smetti di sognare, no? Avevo dubbi, avevo domande per Dio. Sono andato ad Urbana, come studente con questa idea, crescendo nella mia mente. Quindi tornare lì e raccontare cosa Dio ha fatto in questi anni, e incoraggiare una nuova generazione di studenti a pensare a cosa Dio può fare con le loro vite, è stato significativo. Quando sono entrato in quello stadio e immaginato di parlare a tutta quella gente, confesso che mi sono nervosito. Erano 10-11 mila persone, c'era tanta gente. La mia gola è diventata secca, ho preso pastiche, propoli, del tè, tutto, tutto. Era una grande sfida. Ma sapevo che tanta gente pregava per me, anche per Sara che ha parlato dopo di me. Che tanti di voi appunto pregavate per noi, lo so. Mentre ho parlato mi è venuto un grande senso di pace. E un'immagine, mi è venuta un'immagine mentre parlavo, che era di un fiume che scorreva sotto i miei piedi. La presenza dello Spirito e le preghiere delle persone che ci sostenevano e portavano avanti le parole. Vi ringrazio. Abbiamo fatto questo insieme, insieme. Hanno amato le storie che ho raccontato della Chiesa. Ho raccontato un po' di storie. Dei battesimi, le serate di preghiere, le pazzie di Luca. Hanno fatto tante risate. Sono stato molto, sono stato incoraggiato. Quindi ora rientriamo qui a casa con tanta gratitudine nel cuore. Mi trovo qui al nostro settimo anniversario con tanta gratitudine nel cuore. Quanto è bello sperimentare la grazia di Dio e estendere la grazia di Dio ad altri. Non è vero? Quanto è bello aver sperimentato la grazia di Dio come comunità negli ultimi sette anni e sognare come possiamo estenderla ad altre persone nell'anno che inizia. Dio ha un bel anno per noi. Concluderemo questo decennio alla grande. Io ribadisco una promessa che ho fatto in anni precedenti e che devo dire si è sempre adempiuta. Vi prometto il miglior 2019 di tutti i tempi. Ve lo prometto. L'anno scorso quando ho fatto questa promessa qualcuno ha domandato il 2018 avanti Cristo. Io ho risposto non avevano Gesù? Dio non aveva neanche chiamato Abramo. Dopo Cristo è molto meglio. Oltre al fatto che avere la doccia calda, il forno a microonde e la partita inaugurale degli europei nello Stadio Olimpico di Roma è molto meglio. Quindi preparatevi per il miglior 2019 di tutti i tempi. Ho concluso l'anno chiedendo a Dio un tema per quest'anno. Su cosa vuoi che ci focalizziamo e viviamo quest'anno, signori? Pregate. E le esperienze che ho vissuto in queste settimane mi hanno fatto pensare alla grazia, a tornare al cuore della fede. 2019 sarà per noi un anno di grazia, per sperimentare la grazia di Dio in noi e per noi e per estendere la grazia di Dio ad altri. Voglio che ognuno di noi, non importa quanto grande sia o da quanti anni sia un seguace di Gesù, voglio che ognuno di noi sperimenti la grazia di Dio in modo fresco, che incontriamo Dio in modo genuino, che ci abbassiamo davanti a Dio, così per essere esaltati dalla grazia di Dio. E voglio che come comunità continuiamo ad estendere la grazia ad altri. Siamo qui per questo, per amare, per trasmettere la speranza di Cristo ad altri, per aiutarli a conoscere un Dio straordinario. Non siamo a Roma per caso. Tu non ti trovi a Roma per caso. Noi siamo qui, in questa fase delle nostre vite, per essere ambasciatori di Cristo qua. Siamo una comunità con uno scopo, che è condividere Gesù. Siamo un'opera di speranza, come dice il nostro nome. Opera, no? Quindi per parlare di questo oggi, voglio focalizzare una bellissima descrizione della Chiesa al suo inizio. L'ideale a cui aspiriamo noi, ok? Guarda che bel retratto. Si trova in Atti, capitolo 2. Leggiamo questo. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli Apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Venevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Questa descrizione mi piace tantissimo. Descrive la chiesa al suo meglio. Nota gli aggettivi che abbiamo visto qua. Erano perseveranti, presi da timore, stavano insieme, andavano assidui e concordi, con gioia e semplicità di cuore. Era l'umanità al suo meglio. Uomini e donne che servivano gli uni agli altri, gente che stava insieme. Avevano grande gioia, erano concordi, perseveravano in questa vita comune. Era un'immagine così accattivante che le persone intorno a loro non potevano non notare. Il testo dice, godevano il favore di tutto il popolo. Cioè la gente vedeva questa vita comune e diceva, wow, non so cos'è questo, non capisco tutto, ma questo amore e questa gioia sono affascinanti. Non tutti li capivano, certo, affrontavano pregiudizi. Per esempio, nei primi tempi la gente pensava che i cristiani fossero atei perché non credevano agli dei romani o che bevevano il sangue quando ricordavano della morte di Cristo o che praticavano l'incesto perché si chiamavano fratelli e sorelle. Anche tra marito e mogli la gente pensava, oh, questi sposano le loro sorelle. C'erano dei pregiudizi. Piano piano si doveva spiegare. Non siamo atei, crediamo appunto nel Dio creatore. Non sposiamo le nostre sorelle, ma ci amiamo tutti con il tipo di amore che si ha tra fratelli e sorelle. E non beviamo il sangue, ma ricordiamo la morte di Cristo bevendo il vino. Quindi c'erano dei pregiudizi da affrontare. Non tutti reagivano bene. Anche noi li affrontiamo. Non tutti capiscono. A volte anche i nostri genitori, almeno finché vengono a controllare in cosa si sta infilando mio figlio e vi dicono, oh, che bello, tutto a posto. Ma nel complesso, nel corso degli anni, con lo spiegare cosa credevano, con pazienza e gentilezza, la fede in Cristo è esplosa. La qualità di vita tra loro, l'amore e la gioia erano contagianti. Luca racconta che c'era un continuo gocciolino di persone che venivano a conoscerla, esplorare Cristo e decidere di seguirlo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. C'è uno storico del cristianesimo, del cristianesimo antico, che lo chiamò all'epoca un'impossibilità sociologica. Cioè, nessun altro gruppo abbatteva i muri tra le razze in questo modo. Anzi, erano dei culti nazionali, no? O dei di professioni. O nessun altro gruppo aveva schiavi, artigiani e membri della nobiltà che adoravano insieme e si consideravano famiglia. Nessun altro gruppo nutriva tale rapporto tra uomini e donne e esaltava in tale modo le donne. Nessun altro gruppo organizzava cene comunitarie e si prendeva cura dei bisognosi come cristiani. Era un'impossibilità sociologica, che prendeva vita però dalla fiducia che Dio si donò per noi, che ci chiama tutti all'amore e alla riconciliazione e che questa impossibilità è possibile. Questa impossibilità è possibile. Questa visione è fattibile anche per noi, anche oggi. Se ci consacriamo a Cristo e siamo assidui e perseveranti, può accadere anche tra noi. Accade tra noi, lo stiamo vivendo. Anche noi coltiviamo comunione fraterna. Anche noi ci incontriamo nelle case, come dice il testo. Apriamo i nostri spazi e i nostri cuori ad altri. Quanto sono contento per i gruppi nelle case. E quando viviamo questa intimità, questo conoscersi a livello più profondo, questo sostenersi a vicenda, lo vogliamo vivere anche quest'anno. Vi incoraggio, decidi ora, sarò assiduo, sarò presente, mi lanceranno addosso il traffico, la metro piena, la stanchezza, ma sarò perseverante. Ho un appuntamento di famiglia settimanale. Ho una cena in famiglia settimanale. È un privilegio. Non tutti hanno questa possibilità. Per esempio, abbiamo gente che ci segue in altre parti dell'Italia. C'è scritto una persona dall'Alaska, grazie di pubblicare i video, vi seguo, vedo tutto. C'è scritto due persone dalla Sardegna, che hanno detto, dove abitiamo non c'è una chiesa, ma ci sentiamo parte di opera. Guardiamo i vostri sermoni da lontano. Loro non hanno un gruppo in casa, almeno ancora, no? Almeno finché qualcuno qui dica, mi sento toccato di andare a fare studi biblici in Sardegna, sulla spiaggia, magari, no? Almeno fino a quel punto. Voglio dire, è un privilegio avere gruppi intorno a noi, gente da abbracciare, vivere la fede insieme. Vi leggo uno dei messaggi che abbiamo ricevuto l'anno scorso. È questo. Ciao a tutti voi di opera. Come vedete forse dall'indirizzo, sono una studentessa dell'Università di Torino. Mi chiamo Alessandra, ho 24 anni e mi sono convertita da poco. Anzi, ormai sono sette bellissimi mesi. Yuhu! Punto esclamativo. Vi scrivo solo per ringraziare tutti voi di opera per i video stupendi che postate su YouTube. Un amico della mia chiesa qui a Torino mi ha consigliato il vostro canale un mese fa. Ormai guardo i vostri video tutti i giorni, a volte più di uno, e mi sono perso nemmeno i battesimi. E resto sempre stupito da quanto amore e saggezza riusciate a trasmettervi, tutti voi, anche solo attraverso questi video. Spero di un giorno poter venire a Roma a conoscervi, siete bellissimi e vi abbraccio da lontano. Dio vi benedica e vi sostenga sempre. Alessandra. Un saluto Alessandra. Che bello, no? Quello che viviamo qui incoraggia anche persone che non conosciamo ancora. Voglio dire, siamo perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Lo facciamo le domeniche. Facciamolo nei gruppi, nelle case. Facciamolo anche nei corsi per approfondire la fede, i fondamenti della fede. Settimana prossima vi anticipo anche che inizieremo una serie affascinante chiamata Idoli del cuore, utilizzando come base un libro di uno dei migliori autori cristiani del mondo oggi. Si chiama questo qua, Idoli Ingani, questo libro. Affronta temi che toccano tutti noi. La ricerca dell'amore, il denaro, il successo. Abbiamo ordinato tante coppie per avere un prezzo scontato così ognuno di noi possa prendere un libro e leggerlo. Ok? È disponibile poi all'info poi, alla fine. Va bene? E vi anticipo anche che oltre agli appuntamenti regolari avremo dei momenti speciali nel corso dell'anno per vivere questa comunione fraterna. Ad ottobre abbiamo avuto il nostro ritiro per le coppie, che è stato molto bello. E adesso, a fine febbraio, avremo un ritiro per chi non è sposato, per il singolo. Io non vedo l'ora. È una fase talmente bella delle nostre vite, no? E vogliamo parlare. Come possiamo viverla bene? Quali sono le sfide? Come coltivare il nostro carattere? Dio non chiama tutti noi a sposarci, non lo fa, ma se accadrà per noi. Come possiamo prepararci per questo e nutrire buoni rapporti con l'altro stesso, no? Come iniziare un buon rapporto in modo sano, rispettoso, cristiano? Sarà un bellissimo ritiro. Questo a fine febbraio. Poi a fine aprile avremo il nostro ritiro annuale per tutta la Chiesa. Quest'anno useremo il ponte del 25 aprile per avere un giorno in più. Sarà molto bello. Mettete già nei vostri calendari e cominciate a risparmiare i soldi, ok? Dal 25 al 28 aprile. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Rileggo anche un'altra parte che mi affascina. Ecco, sta qua sotto. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. L'unione tra i primi cristiani era così grande, era tale, che ritenevano di avere ogni cosa in comune. Donavano in modo sacrificale, al punto di vendere delle proprietà e donare dei risparmi. A dicembre una persona mi ha chiamato per dire questo. Ho ricevuto una bella notizia. Ho ricevuto un bonus al lavoro, per il lavoro che ho eseguito quest'anno. Ma riconosco che questo è un dono di Dio e che questi soldi sono per Dio. Quindi voglio donare parte di questo bonus per essere d'aiuto ad altri. Dimmi come. È proprio così. E i doni che Dio ci dà sono per il bene comune. Questa donazione infatti ci aiuterà a pagare parte della rata del ritiro, per aiutare anche chi non se lo può permettere di pagare tutto a venire lo stesso. Vogliamo essere tutti lì. Una comunità cristiana è così. Vogliamo vivere ciò che Dio ha per noi. Vogliamo che altri lo vivano insieme a noi. Siamo una comunità di grazia. Di grazia. Aggiungo anche partecipa a questo. È bellissimo da vivere. Affida le tue finanze a Dio. Se non lo fai ancora, se hai già iniziato un percorso cristiano e vuoi iniziare anche a donare ciò che la Bibbia ci insegna, il 10% del nostro reddito che la Bibbia ci insegna, ti incoraggi, inizia a farlo. Non c'è nessun ristorante, nessuna bolletta che io paghi, che paghi con tanto piacere. È un privilegio usare parte delle risorse che Dio ci dà per contribuire al bene comune, per aiutare che altri conoscono Cristo, per scrivere una storia eterna, per trasformare vite. Vogliamo condividere parte di ciò che Dio ci dà. E vogliamo anche rimboccarci le maniche e servire la nostra comunità in modi pratici. Lo faremo già questa settimana. Vogliamo iniziare l'anno così. I nostri gruppi nelle case inizieranno l'anno andando a servire in vari ministeri qui a Roma. Chiamo avanti i referenti di queste iniziative. Vedete qui davanti, voglio presentarvi per favore. Ecco qua. Jenny, Leonard, Fabrizio, Michele, Vincenzo. Fabrizio, il nostro grande Fabrizio, è il referente per un ministero di distribuzione di cibo alla stazione Tiburtina il mercoledì sera. Vieni, vieni. Jenny, insieme a suo marito Brian e anche Leonard. Dove sei Leonard? È giù, sta con i bambini. Sono i referenti per un bellissimo centro di accoglienza per profughi e rifugiati chiamato il soggiorno. Vi incoraggio a parlare con loro, un bel ministero. Poi Michele è il referente per un punto di raccolta di alimenti, materiale scolastico e indumenti per distribuire a famiglie bisognose. E il nostro grande dottor Vincenzo Grotti è il referente per un centro che raccoglie non vedenti e ipovedenti. Possiamo, per esempio, andare a conoscerli, leggere un libro loro, no? Non vedo. Quindi vogliamo essere concreti, vogliamo servire in questi modi nel corso dell'anno, iniziando già da questa settimana. Quindi vi incoraggio ad andare a parlare con loro poi alla fine e avere più informazioni. Ok? Grazie. Noi abbiamo ricevuto un'immensa grazia da parte di Dio, il suo figlio Gesù. Noi siamo una comunità di grazia che estende e moltiplica questa grazia ad altri. Dio lo farà anche quest'anno. Ne sono sicuro. Se ci affidiamo a Dio e siamo assidui e perseveranti, goderemo di una vita comune piena di gioia e avremo un impatto sulla nostra città. Dio raggiungerà e trasformerà nuove vite anche quest'anno. Dio è fedele. Dio sarà presente. La questione è lo saremo noi. Ci siamo noi. Tra poco canteremo ancora. Poi avremo il pranzo e dei bei momenti per ascoltare le storie di come Dio sta agendo in mezzo a noi. Ma prima di questo voglio concludere il nostro messaggio oggi come in altri anniversari precedenti, invitandoci a riconsacrarci come comunità a Dio. Un nuovo anno inizia. Vogliamo dire un così fresco a Dio. Anche oggi. Quindi se vuoi, adesso mentre suonano, chiudi pure gli occhi. E se vuoi e se puoi, ti invito, inginoccati adesso insieme a noi. Facciamo anche questo gesto particolare. Vogliamo dire a Dio che ci siamo. Ci offriamo. Saremo una comunità di grazia quest'anno. Quindi abbiamo questi momenti di trasformare in silenzio pregando a Dio. Grazie a tutti.